Buonasera a tutti i telespettatori di Lente Ingrandimento, buonasera come sempre al nostro ospite il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, buonasera sindaco, direttamente da Roma dove ha avuto un incontro importante con il ministro Bonisoli, tanti gli argomenti trattati, cominciamo appunto da quello più importante che riguarda la città di Napoli e in particolare il buono, lo abbiamo tante volte detto, la villa floridiana e poi chiaramente tanti altri argomenti che sono stati trattati. Sì, sinteticamente posso dire i contenuti di un incontro di un'ora e 40 minuti con il ministro dei beni culturali Bonisoli avuto oggi. Cominciamo dall'argomento che ha sottolineato lei, la villa floridiana, ho chiesto al ministro di superare questa situazione inaccettabile, di verificare se ci fosse la disponibilità del governo di finanziare, altrimenti sarei intervenuto come città metropolitana. La faccio breve, si è chiuso l'accordo che il governo mette 2 milioni di euro per la riqualificazione integrale della floridiana, andremo a firmare una convenzione con cui si deciderà di aprire ancora di più alla fruizione pubblica e culturale la villa e il comune darà la disponibilità con il suo personale di svolgere attività di manutenzione. Via floridiana che versa veramente in uno stato di assoluto degrado ormai da anni, ed è un polmone verde fondamentale per la città di Napoli, non soltanto per il quartiere collinare. Il secondo parco della città dopo Capodimoto, quindi un risultato ottenuto, fortemente voluto da noi e ringrazio il ministro perché ha accolto l'importanza delle argomentazioni che la città e che noi abbiamo portato al Mibact. Poi abbiamo discusso del Teatro San Carlo e dell'acquisizione con cui il ministro si è espresso in maniera favoribile, l'acquisizione al patrimonio della città di Napoli del Teatro San Carlo. Questo risultato straordinario, il teatro dallo Stato passa alla città di Napoli. Poi abbiamo discusso del Teatro Nazionale, cioè Mercadante lo Stabile, Mercadante San Ferdinando, su come maggiormente valorizzare il Teatro Nazionale della nostra città. Abbiamo ragionato di Capodimonte, in particolare non solo della straordinaria mostra del Caravaggio che si dovrà tenere e quindi sarà un'occasione che si stima possa portare 200 mila persone nella città di Napoli, solo dedicate alla mostra, ma abbiamo lavorato insieme per l'implementazione del trasporto verso Capodimonte, quindi non solo con un potenziamento del trasporto di linea, ma anche con l'utilizzo nel masterplan con cui stiamo lavorando insieme al direttore Belanger di Capodimonte, del Garittona, al fine anche di utilizzo per parcheggio e fruizione per bus turistici, in modo da evitare il parcheggio selvaggio sui marciapiedi o la difficoltà di accesso a Capodimonte. Poi abbiamo discusso del valore strategico del parco archeologico su piazza Municipio, legato alla realizzazione dei lavori della metropolitana e dei fondi per il completamento del grande progetto Centro Storico Unesco. Poi infine abbiamo anche discusso, esprimendo le nostre reciproche posizioni, la questione delle famigerate griglie di piazza del Plebiscito. Le griglie di ventilazione per il completamento della realizzazione del metro 1 di piazza del Plebiscito? Si è trovata una quadra in qualche modo? Comunque vi rivedrete a breve? Non si perderanno questi 98 milioni? Questo è importante? L'obiettivo si raggiungerà e si raggiungerà in tempi brevi, anche perché noi abbiamo fatto ricorso al secondo provvedimento del Ministero, il Tar si pronuncerà in tempi brevi, quindi da qui a qualche settimana noi saremo in condizioni di riprendere i lavori e quindi ci auguriamo a quel punto di trovare chiaramente un'intesa con il Ministero dei Beni Culturali. Quello che è importante, direi, è il clima costruttivo, cordiale, anche nelle reciproche posizioni differenti che c'è stato oggi e come potete vedere in una vista di un'ora e 40 abbiamo portato molti risultati concreti per la cultura, per lo sviluppo e per il turismo della nostra città. Quindi è un rapporto, è un incontro istituzionalmente corretto così come è giusto che sia, lo abbiamo spiegato tante volte anche per quanto riguarda i rapporti tra il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ritorneremo a parlare di questo argomento dopo. Sindaco, io vorrei fare un passo… La pure ce l'abbiamo messa tutta, poi ci ritorneremo. Purtroppo ci sono le conseguenze che si comincia a tastare con i fatti, soprattutto i cittadini sono un po' disorientati su tutti gli argomenti. È un tema prepolitico, bisogna affidarsi ad altre professionalità per risolvere quel problema. Ne parleremo dopo, io le farei prendere fiato un attimo, vedrei una scheda, parleremo delle europee. Sindaco, ne abbiamo parlato tante volte qui all'ente di ingrandimento della sua voglia di entrare più direttamente nel lagone politico e le europee potevano essere un'occasione importante. Era indeciso se candidarsi o meno, però sembrava abbastanza certa la realizzazione di una lista, però ha sempre detto se ci sono delle condizioni. A questo punto mi pare che ci sia uno stallo, perché non si riescono a trovare queste condizioni? Cosa manca per presentare una lista? No, siamo più che a uno stallo, cerco di essere sintetico per esprimere con chiarezza qual è la nostra posizione. Partiamo dal primo punto certo, non è una banalità quello che dico. Io ho un patto fondamentale con la città di Napoli, sono stato eletto sindaco, quindi per me esiste il ruolo di sindaco. Quindi siamo partiti da questo dato. Secondo dato, lo coglieva lei, abbiamo lanciato un progetto politico. Un po' perché Napoli in questi anni ha superato di gran lunga i confini di un'esperienza amministrativa e quindi noi ci siamo posti in connessione con altre esperienze nazionali, ma anche europee e internazionali, come un'esperienza che vuole costruire insieme ad altri un progetto politico. E questo l'abbiamo sancito in modo netto, formale e forte con l'assemblea del primo dicembre a Roma. Poi come correttamente ricordava lei, abbiamo in questi mesi verificato se già ci fossero le condizioni per essere già pronti, presenti con una lista all'europea e se del caso valutare anche una mia candidatura pur non lasciando mai la poltrona, chiamiamola così per capirci, di sindaco perché il sindaco si può candidare e poi una volta eletto deve scegliere. Ho sempre detto che sarei rimasto a fare il sito, però ho sempre detto che questa mia disponibilità, che è un atto di generosità dovuta alla preoccupazione che abbiamo per il clima politico, che c'è in Europa e in Italia, doveva essere accompagnato necessariamente da un afflato, un entusiasmo come dire anche di altri che spingessero nella direzione di formare una squadra che andasse in questa direzione. Mi è parso di capire, al di là di una serie di incontri, di persone che ci starebbero in questo progetto, tante esperienze, che un po' alla fine, per farvela sintetica e non consumare oltre il mio tempo della risposta, dovevo mettermi io in qualche modo a lanciare la lista, a lanciare che io ero in qualche modo il capo politico di questa lista e fin'anche ero il capolista ovunque, quindi era un po' de magistis, tre mesi di campagna elettorale, non dico lui da solo perché non è questo in termine, però che mi sarei dovuto caricare un po' come quando otto anni fa decisi di diventare sindaco. Allora, questa cosa non è pensabile, perché io non posso lasciare la città che è piena di problemi, di complessità, di difficoltà quotidiane che se non ci sto io su tanti tavoli crolla tutto. Quindi di fronte a questo è evidente che è impossibile da parte mia andare in una direzione di questo tipo. Differentemente invece, e concludo, se io non fossi stato sindaco starei già in campagna elettorale e avrei fatto esattamente quello che feci otto anni fa quando decisi, senza andare a fare accordi con Tizio, con Caio e con Semproni, di candidarmi a sindaco e quando queste condizioni ci saranno, è davvero giudo, quando non sarò più sindaco di Napoli e quindi potrò candidarmi per in qualche modo guidare insieme ad altri un'alternativa dal basso a politiche che non ci piacciono, sarà tutta nata storia. Nel senso non staremo settimane a discutere chi ci sta, chi non ci sta, chi vuole esserci, quanti saremo e dove saremo, perché l'idea che possa essere io, che contestualmente faccio il sindaco, il candidato, questo e quell'altro, è una cosa che non ci può stare. Diciamo di questo progetto dell'Europe se ne parlava un po' da novembre, poi a dicembre c'era stato anzi un focus maggiore proprio sulle europee. Per quale motivo secondo lei le forze che avrebbero in qualche modo dovuto sostenerle e darle magari quell'appoggio in più non hanno creduto forse nel progetto? Perché sono venute meno? Lei aveva chiamato a raccolta un po' anche la sinistra, aveva chiesto appoggio anche negli scontenti del Movimento 5 Stelle che ne sono, vediamo dopo la vicenda del no al processo a Matteo Salvini, ministro dell'interno, sono veramente tanti all'interno del Movimento. Nessuno è venuto meno. Le letture che ci sono sui giornali sono parziali, non è che noi stiamo facendo un tavolo che ricomponeva il puzzle di esperienze già bocciate come rivoluzione civile. Il tema che si è colto, che per me da una parte è anche una bella cosa sul piano personale, ma che stride rispetto al dato che posso conoscere solo io e chi mi sta veramente vicino, cioè io faccio il sindaco H24, che un po' tutti aspettano che io domani mattina faccio la conferenza stampa e dico allora io faccio la lista, sono candidato, cominciamo a fare la campagna elettorale e poi tanti sarebbero venuti con noi, insieme a noi, non dico dietro di noi che un termine non mi piace, insieme a noi come quell'immagine mare del quarto Stato, un popolo che si muove. Ma non può funzionare così, perché oggi io faccio il sindaco. Allora quello che doveva accadere, avendo io dato comunque la disponibilità ad esserci, che ci voleva un maggior protagonismo, una maggiore capacità di attivismo, una maggiore capacità di costruzione da parte di tanti. Perché secondo lei non c'è stata? Perché non hanno creduto forte nel progetto? Perché pensavano che comunque non riuscivate a portare a casa il risultato. Perché è molto legato evidentemente al fatto che tutti danno per scontato che io possa fare contestualmente il candidato alla presidenza della regione, il candidato all'europea, il sindaco di Napoli, il sindaco della città, un po' lo sono, perché per fare il sindaco di Napoli senza soldi diventi anche un po' Superman, però sono anche una persona che innanzitutto è nella testa sul collo, avverte la responsabilità enorme, enorme di fare il sindaco di Napoli, quindi io avrei anche lanciato il cuore oltre l'ostacolo, facendo contestualmente il sindaco e per qualche settimana insieme ad altri la campagna elettorale, ma se questi altri si sono troppo nascosti o crugiolati dietro al fatto che io comunque magari ritenevo che alla fine ci sarei stato, io ho detto sin dal primo momento, dall'estate scorsa, quando iniziamo questo percorso, dissi guardate io ci sarò se si scioglieranno determinati nodi. I nodi non si sono sciolti, il che non significa che è game over al 100%, la vita mai dire mai, magari domani mattina si scatena un cambiamento, allo Stato parliamo di oggi, 20 febbraio, anno del signore 2019, non ci sono le condizioni per fare, almeno per quanto mi riguarda, né una candidatura, né una lista. Siamo realisti, si vota ad aprile, per cui ci vuole anche un tempo per la campagna elettorale. Il tempo ci sarebbe anche, perché là c'è il simbolo che si potrebbe costruire, non bisogna necessariamente raccogliere le fiche, ci sarebbero anche, ma non c'è quel clima, chiamiamolo così, che io avevo spiccato, o per meglio dire ci potrebbe essere quella ricomposizione di quel puzzle di alcuni partiti o situazioni già viste, quella è una progettualità che a sinceramente con tutti rispetto non interessa. Però comunque, anche se non ci sarà lista all'Europa Ede, ma continua in questo suo percorso politico e vede ancora la possibilità di essere presente in altre competizioni elettorali, sappiamo le regionali, ma potrebbero esserci da un momento all'altro le politiche, visto che questo governo sembra sempre più in bilico. Guardi, la ringrazio molto di questa domanda, così ritorno su un'affermazione, è ancora più forte il progetto, io ho sempre detto, il progetto politico c'è, è forte e con quello che sta accadendo in questi giorni in Italia è fortissimo, quindi noi ci radicheremo sempre di più sul territorio regionale e nazionale, ma vi dico di più, noi abbiamo la settimana scorsa depositato già il simbolo del nostro progetto politico, in cui non è più DEMA, perché DEMA è il movimento di cui sono presidente, è la componente maggioritaria dell'esperienza politica napoletana, ma siccome noi ragioniamo in termini di convergenza e di confluenza è una componente, non siamo gerarchici, non siamo autoritari, non siamo antidemocratici come il Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo un simbolo molto bello che abbiamo depositato, adesso valuteremo, forse fa l'uscire adesso che è periodo di campagna elettorale, non so se è il caso, ma sta là, quindi noi siamo motivatissimi, ecco perché siamo talmente motivati che io un po' di dispiacere, consentite, ce l'ho, perché sotto sotto, l'ha colto anche lei nella domanda che ha fatto, io ritenevo che era in me. Insomma lei ci credeva, almeno abbiamo avuto la sensazione che lei ci credesse veramente. Io ci credo, perché lo spazio è enorme, io sono convinto che se facessimo una lista con De Magistris, con Confluenza, insomma anche un entusiasmo si potrebbe prendere un risultato molto importante, di gran lunga superiore alla soglia del 4%, però, ripeto, non è che uno qua fa l'uomo per tutte le stagioni, la priorità è assoluta, sindaco di Napoli, progetto politico, risultato finale, l'obiettivo è il governo del Paese. Noi dobbiamo costruire, alla luce di quello che sta accadendo, c'è una deriva nel Paese che è davvero preoccupata. Un'altra cosa in cui lei crede fortemente, che intende portare avanti, Napoli città autonoma e addirittura lei ipotizza la possibilità di un referendum, perché chiaramente ciò che sta decidendo il Parlamento per quanto riguarda il regionalismo differenziato significa probabilmente spaccare, forse più che probabilmente, certamente spaccare il Paese a danno chiaramente sempre del Sud, che è già danneggiato da sempre. E lei quindi intende andare avanti? Ma è chiaro che l'idea del referendum nasce dopo questa vicenda gravissima del disegno di legge annunciato sul regionalismo differenziato, ma noi stiamo già nella piena progettività di Napoli città autonoma. Ricordiamolo a chi ci ascolta che, attento, noi già alcuni mesi fa, nel 2018, abbiamo approvato la delibera Napoli città autonoma, che adesso entra in discussione in Consiglio Comunale per la modifica dello statuto. Abbiamo approvato la delibera sulla moneta partenopea, sulla criptomoneta, che tra breve entrerà a regime su tanti servizi. Stiamo completando l'opera di aggressione al debito ingiusto statale, quindi dovuto ai commissariamenti post terremoto e rifiuti. Quindi noi stiamo, siamo la città più avanti nella progettualità città autonoma. Alla luce di quello che sta accadendo, dissoluzione dell'unità nazionale, separazione dei ricchi, rafforzamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze, lancio l'idea di un referendum consultivo da fare entro l'anno in autunno, in cui noi chiediamo innanzitutto alla città, per poi portare una proposta concreta, efficace e dettagliata al governo, di essere la prima città d'Italia a piena autonomia, non differenziata, piena. Perché io sono convinto che se noi vogliamo far ripartire il paese, se vogliamo dare forza ai territori e quindi ai diritti e ai bisogni degli abitanti e dei concittadini, dobbiamo dare forza alle città. Invece darlo, e chiudo, darlo alle regioni significa darlo ai potentati, alla politica tradizionale, quella anche molto abbezza alle clientele e darle solamente alle regioni del nord, poi è clamorosamente un'ingiustizia, se lo vuoi dare alle regioni, darle anche a quelle del sud, ma se le diamo alle regioni e non le diamo ai cittadini e alle città, stiamo facendo un'operazione che serva alla politica di apparato, ma non ai cittadini. Le regioni devono tornare ad essere quello che costituzionalmente dovrebbero fare, programmare, non gestire. Lei si è meravigliato che questa sua proposta del referendum è stata appoggiata in qualche modo dall'ex governatore, ora capo dell'opposizione del centrodestra Stefano Caldoro, che dice sì, è giusto dare autonomia alle città e anche appunto le regioni condivide il pensiero che devono essere organo di programmazione, così come costituzionalmente peraltro stabilito. Guardi, se visto anche dalla discussione sull'ordine del giorno, l'altro giorno in Consiglio Comunale, e lo confermano nelle parole di Stefano Caldoro, questa non è una posizione come di di sinistra o di destra, il tema dell'autonomia è un tema molto interessante, che può unire in maniera trasversale. Io condivido il fatto che ci siano anche persone che magari politicamente sono completamente distanti da noi, ma sul tema dell'autonomia possiamo fare una lotta insieme e chiaramente ho apprezzato le dichiarazioni di sostegno di Stefano Caldoro, ma è così, io credo che noi dobbiamo lavorare sull'autonomia forte delle città, a cominciare dalle aree urbane significative, faccio un esempio Napoli e Milano, poi si deve ritornare alle regioni in quanto è organi solo di programmazione, magari anche con un accorpamento, questa è un'altra ipotesi interessante, cioè quello di un governo centrale che si occupa delle materie previste in Costituzione, le regioni che si uniscono anche per una loro maggiore conformazione e qui per esempio può venire la forza dell'Italia meridionale che si unisce e poi grande autonomia, grande forza e risorse alle città. Avremo un paese più unito, più coeso che lì veramente valorizza tutte le autonomie e le differenze, non come le regioni di oggi che pretendono per fare clientela politica di non fare solo programmazione e tenerti al guinzaglio, noi gli spezziamo i guinzagli qua, o la gestione, ti dicono di mettere il lampione così, devi fare la strada così, le regioni sono diventate da questo punto di vista un organo di gestione, anche molto di gestione e così non va bene. Sindaco, purtroppo mi dispiace che torniamo sempre all'ente di ingrandimento su questo rapporto che non esiste istituzionalmente corretto tra il governatore e lei e a proposito di questo, noi abbiamo ricevuto anche abbastanza mail di telespettatori che si dicevano preoccupati su un argomento, però ritornando a parlare delle autonomie, in realtà anche qui potevate trovare un punto di contatto per cominciare anche un discorso insieme, perché il governatore La Campania, anche lui si dice preoccupato di questa autonomia differenziata delle regioni, però anche qui non siete riusciti a fare un percorso, magari con Caldoro si è sentito, ma invece con De Luca non… Il problema, come vedete, non sono io, io non ho l'ossessione di De Luca, io se De Luca dice una cosa che condivido, io non ho difficoltà a dire che condivido, io non avrei difficoltà a sedermi al tavolo con De Luca per discutere di autonomia, ecco perché dico il tema è dall'altra parte, mi spiace dirlo ma è una verità, noi riusciamo comunque a dialogare con tutti, l'unico con cui non si riesce a sessi attorno al tavolo è De Luca, quindi il problema, non so se è un tema politico, io temo che non sia solo un tema politico, ci sia dell'altro chiaramente, è un tema di altro tipo. E a proposito del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il governatore si dice preoccupato perché l'azienda Napolitano e Mobilità potrebbe chiudere i battenti, questa è una notizia che lui ha riferito nel corso della trasmissione Barba e Capelli, non da su radio CRC, che il comune di Napoli insomma non avrebbe messo nemmeno un euro per quanto riguarda l'anno 2018 per l'azienda napolitana di mobilità, mentre la regione ha investito altri 58 milioni e che però l'azienda versa in condizioni disastrose, noi però leggiamo sui giornali, abbiamo letto un'intervista all'assessore dei trasporti calabrese e anche un'intervista al presidente della Napoli Holding a Medeo Manzo che l'azienda è fuori dal baratro. Chiaramente i nostri tre spettatori che ci seguono e seguono chiaramente come è giusto che sia anche le altre fonti di informazioni ci hanno chiamato preoccupati perché dicevano perché chiude l'ANM e devo dire la verità io non avevo ascoltato l'intervista del governatore De Luca, però sono andata sulla sua pagina Facebook dove chiaramente rilancia questa intervista e ho ascoltato. Quindi insomma il povero cittadino che chiaramente vuole essere informato correttamente, a chi deve credere? Ma innanzitutto ai fatti, quindi se questa è una sua legittima domanda noi siamo in condizione, glielo possiamo fare avere a lei, le pubblichiamo su Facebook, le carte con cui voglio dire i documenti smentiscono il bugiardo De Luca che ho ascoltato anche io l'intervista, dice bugie e siccome devo pensare che dice anche una bugia quando è preoccupato, io credo che lui non sia affatto preoccupato, ma anzi stia giocando col fuoco, perché se fosse veramente preoccupato il governatore della regione Campania dovrebbe cominciare a fare qualcosa per il trasporto, perché quando lui si riferisce al 31 dicembre 2019, spiego io ai cittadini che significa, sono io che ho scritto a De Luca, mi ha detto caro De Luca a chi aspetti a muovere il tavolo istituzionale che noi gli chiediamo e che lui non convoca, a dimostrazione che noi vogliamo il dialogo e lui non lo vuole, perché il 31 12 2019 finisce l'assegnazione della funzione del trasporto pubblico in concessione alla città di Napoli, al comune di Napoli, ricordo che per legge il trasporto è regionale, non comunale, la regione lo affida in concessione al comune, la concessione scade il 31 2 12 2019, allora è De Luca che se non chiude la partita, è lui che non ce lo vuole dare, quindi non è che fallisce ANM, se lo prende De Luca, altra bugia, bugia tra l'altro grave, perché non posso credere che De Luca non la sappia questa cosa, non solo noi non è che non abbiamo messo zero, ma abbiamo messo 54 milioni, la regione circa 58, vediamo le carte, però adesso lei mi ha chiesto, io devo rispondere, poi se vuole le carte così vede chi dice il vero e chi è bugiardo, 54 milioni abbiamo dato noi e circa 50 milioni, quindi la stessa cifra, nonostante noi siamo in predissesto, in qualsiasi altro luogo d'Italia, la regione mette di gran lunga e il comune di gran lunga minore, qua abbiamo Paperon de Paperoni e Paperino, noi saremmo Paperino e lui è Paperon de Paperoni, che mettono la stessa cifra, nonostante la regione crediamo talmente tanto, quindi oggi mi sento di dire assumendomi la responsabilità che nonostante Vincenzo De Luca e tutto quello che ha fatto per mettere in condizione l'NM di fallire, noi l'abbiamo salvata e la stiamo rilanciando, adesso lui va talmente in freva che la stiamo rilanciando e fin anche sta andando meglio e andrà sempre meglio, siccome lui ha proprio un astio, un'allergia nei confronti di Napoli, lui sta giocando col fuoco perché sta creando le condizioni per fermare la ripartenza, altrimenti lui dovrebbe convocare il tavolo e dovrebbe dire, cara amministrazione comunale di Napoli, sediamoci al tavolo, noi ti ridiamo la concessione per i prossimi anni e noi continueremo col trasporto pubblico sempre migliore della nostra città. Lui continua a mettere pochissimo, perché rispetto alle altre regioni mette poco e andate a vedere quanto mette per le altre città, compreso Salerno, con i 600 milioni che ha preso per l'Eab, quindi lui può dire quello che vuole, poi ci sta il pensiero nostro e le carte. In questo intervista ha detto che anche demagogia non è vero perché i soldi che sono stati investiti su Napoli sono maggiori di tutte quante le altre città della Campania. Insomma guardate quando offende De Luca, per me sono medagli in petto. Io quando piglio una critica a De Luca e da Salvini o da persone di questo tipo io ho il medagliere a casa. Ogni cosa che dice De Luca è una medaglia in più. Sindaco, dal governatore De Luca ci spostiamo all'autorizzazione a non procedere per quanto riguarda il ministro all'interno Salvini e che è stato chiaramente salvato dal Movimento 5 Stelle che ha fatto questo voto online. Insomma quindi la base si è sicuramente spaccata perché una parte del Movimento 5 Stelle ha appoggiato la decisione ma un'altra parte l'ha subita insomma. Quindi tra l'altro Salvini chiaramente felice di questa decisione ha anche fatto un'offerta a Di Maio che dice corriamo insieme per le europee. Ovviamente Di Maio ha detto no perché il Movimento 5 Stelle è insurto dice ma stiamo scherzando insomma perché vorrebbe portare questo progetto diciamo nazionale anche a livello internazionale giallo verde. Non ha tutti i torti Salvini perché anche dopo questa votazione pare sempre di più essere non solo il capo politico del governo ma quasi essere il capo politico del Movimento 5 Stelle. Al di là della consultazione sulla quale comincio a sentire molte riserve anche dall'interno di amici che stanno nel Movimento 5 Stelle sulla trasparenza di questo sistema che io chiamo Di Maio non Rousseau perché Rousseau è un grande filosofo che non lo possiamo imbrattare con questa pseudo forma di democrazia che democrazia non è. Io credo che quello che è accaduto è gravissimo perché io ricordo perfettamente pur non essendo un militante e un votante del Movimento 5 Stelle l'ho sempre seguito con rispetto e fin anche con affetto l'origine dei meetup con cui ci hanno legato tante cose e una delle loro battaglie è stata sempre quella no all'impunità all'immunità e ai salvacondotti per i politici. Hanno fatto peggio di Berlusconi, peggio perché Berlusconi almeno lo diceva in modo netto. Berlusconi non è mai stato il paladino della questione morale, il paladino della lotta alla corruzione, il paladino della lotta alla mafia. Lui diceva che i politici si dovevano sottrarre alle indagini. Le varie immunità hanno prima repubblica, facevano i processi da craxi in poi le cose che conosciamo. Questi hanno fatto peggio perché non hanno avuto il coraggio di fare quello che dovevano fare, cioè consentire alla magistratura di svolgere le proprie indagini nei confronti di un ministro come si fa per ogni cittadino. Si sono trincerati da un pseudo voto democratico della base e hanno consentito a Salvini di salvarsi da un processo che evidentemente faceva paura perché gli elementi sotto il profilo del sequestro di persone erano molto seri. Ma quel che chiude come gravità estrema questa vicenda è che la motivazione del governo intero, Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli è che quello che è accaduto con la Diciotti rientra in un disegno strategico del governo di difesa dall'immigrazione candestina, cioè sequestrare bambini e donne in una nave italiana della guardia costina, donne che erano state stuprate e si dovevano far visitare anche o bambini in difficoltà, è un atto che rientra in una strategia quasi che fosse un segreto di stata difesa militare del nostro paese. Io credo che sia una delle pagine più ignobili della storia repubblicana del nostro paese, aggravata da quello che è il movimento che non potrà più gridare Di Maio al prossimo comizio, onestà, onestà, ma dovrà con un megafono urlare, noi siamo quelli della impunità, impunità e della immunità, immunità. Sindaco, dopo questa decisione lei ha sentito, almeno telefonicamente, il Presidente della Camera, Fico, con il quale lei ha dei rapporti sicuramente migliori che con altri esponenti del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo detto tante volte, Fico conosce bene il territorio, quindi potete in qualche modo discutere più concretamente dei problemi che riguardano Napoli? No, non l'ho sentito, spero di incontrarlo a breve, ma vi devo dire con sincerità, io sono dispiaciuto di questa cosa, io politicamente ne potrei, tra virgolette, godere di questo suicidio politico del Movimento 5 Stelle, ma mi dispiace, mi dispiace perché io so perfettamente che tanti militanti, tantissimi votanti, ma anche alcuni parlamentari, non la pensano in questo, sono inorriditi anche loro, tra l'altro il voto del cambiamento che c'è stato per il Movimento 5 Stelle, era contro il sistema, era contro Renzi, Berlusconi, il cambiamè, ma qui stanno facendo peggio, perché quando poi uno si presenta come il nuovo e diventa peggio del vecchio, scatta un meccanismo di sfiducia, di insoddisfazione, di apatia, fino anche di rabbia, nelle persone che dicono mamma mia, ma anche questi che dovevano essere fuori dal sistema stanno facendo ancora peggio, poi qua secondo me gli stessi saranno innamorati Salvini, perché è diventata una cosa veramente incredibile, a Salvini lo sta portando veramente, secondo me è diventato il capo politico, infatti se uno fa legalità, lega, c'è da legalità, che era il partito della legalità, hanno tolto l'ità e sono arrivati in lega, quindi tra un po' Di Maio darà lo scettro di capo politico del Movimento a Matteo Salvini e quindi il disegno di Salvini, Salvini guardate, io l'ho sempre detto, lo sapete come lo critico? Salvini peraltro ha detto che adesso comincerà un monitoraggio attento dei centri sociali, lei è preoccupato anche per questo? Ma io non sono un militante dei centri sociali, sono il sindaco di Napoli, sono… Però insomma abbiamo detto tante volte in questa organizzazione che i centri sociali talvolta svolgono dei ruoli fondamentali in alcuni territori. Ho fatto una battuta, io sono preoccupato per la democrazia nel nostro paese, sono preoccupato per una torsione autoritaria che è in atto, sono preoccupato per un restringimento delle libertà civili ed è per questo che noi non ci fermeremo fin quando non andremo insieme ad altri a governare questo paese. Sindaco, noi la ringraziamo che è venuto direttamente da Roma qui all'Ente di Ingrandimento anche questa settimana, grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a scrivere in redazione Chiocciolatelevaomero.it, buona serata, grazie ancora Sindaco. Buona serata a voi. Buona serata a voi.